benvenuti a preferirei il rumore del mare 2020 anteprima di preferisco il rumore del mare che prima o poi in qualche modo comincerà come tutti gli anni e quest'anno sarebbe il decimo vedremo poi che cosa succederà disordine ho aspettato venisse una guida a prendermi per mano queste sensazioni potranno farmi provare i piaceri di un uomo normale queste sensazioni mi interessano appena per un altro giorno ho lo spirito perdo il sentimento spazzo via la botta diventa più veloce più veloce adesso sta sfuggendo di mano al decimo piano giù per le scale di emergenza nella terra di nessuno lampeggiare di luci schiantarsi di auto ora sempre più spesso ho lo spirito perdo il sentimento in qualche modo lo lascio andare via che significa per te che significa per me ci ritroveremo ancora ti guardo la guardo non chiedo pietaglia amici chi è nel giusto e chi può dirlo a chi importa adesso fino a quando la nuova sensazione dello spirito non fa effetto fino a quando la nuova sensazione dello spirito non fa affetto ho lo spirito ma perdo la sensazione anche se passelico Grazie a tutti 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 Grazie a tutti